Sono uniti felici e sorridenti con la piccola Diletta in braccio. La foto invita però a dar loro l'ultimo saluto dopo il tragico incidente lungo l'autostrada a 13, tra Bologna e Altedo, che li ha portati via nella notte tra il 1 e il 2 novembre. Slittati da venerdì si svolgeranno lunedì prossimo, 11 novembre, i funerali di Anna Piero Pan, 29 anni, Daniele Minati, 32, e della loro figlioletta di appena 5 mesi. Lutto cittadino in tre comunità, a Schio, dove vivono i genitori di Anna, a Sovizzo, dove vive la famiglia di Daniele e Isola Vicentina, dove i giovani abitavano dal 2017 nel rustico che stavano ristrutturando. La celebrazione si terrà al pala romare di Schio messo a disposizione del Comune per la grande partecipazione prevista. La struttura sarà aperta sin dalle 10.15. Alle 10.30 la celebrazione prenderà avvio con una veglia di preghiera.